Buonasera ragazzuoli e ragazzuole, sono tipo in ritardissimo con questo video. Questa cosa dell'essere in ritardo mi è stata ricordata dolorosamente dal fatto che mentre stavo cercando di ordinare i pensieri per parlare di questi romanzi mi sono accorta che è passato talmente tanto tempo che non so quanto riuscirò a trasmettermi quello che effettivamente i romanzi hanno trasmesso a me e nel male. Ma bando alle ciance iniziamo subito, tipo da uno dei primissimi che ho finito tantissimo tempo fa per cui forse ve ne parlo. Il primo romanzo di cui vi voglio parlare, che io ho letto però in ebook è L'oceano in fondo al sentiero di Neil Gaiman. Questo romanzo l'avevo iniziato tantissimi mesi fa quando è uscito soltanto in inglese e mi stava piacendo però dopo ci sono tutte state una serie di vicissitudini per cui non sono riuscita tantissimo a concentrarmi e ho detto non è giusto che io a Neil Gaiman, autore che amo e adoro, stia dedicando così poco tempo e del tempo così frammentato per cui alla fine ho deciso di mollarlo e non l'ho più ricominciato finché tipo a dicembre dell'anno scorso sotto Natale mi sono messa a leggere perché non c'è niente di meglio che leggere Neil Gaiman sotto Natale. L'oceano in fondo al sentiero è una fiaba. mi ha ricordato un po' Coraline, vi dirò, un po' per la trama, un po' perché anche Coraline comunque era mia data nel mondo dell'infanzia, anche se in realtà l'oceano in fondo al sentiero inizia quando il protagonista è già adulto e ricorda quando ero bambino. In sé la trama non è che sia ricchissima di chissà quali avvenimenti, non vi ho aspettato un romanzo da Neil Gaiman tipo American Gods o tipo Nessun Dove, è abbastanza diverso da quei due libri, appunto come vi dicevo forse vi ricorda di più un Coraline o The Graveyard Book che deve essere in italiano Il Figlio del Cimitero. È sicuramente meno potente, meno epico rispetto a quei romanzi ma non per questo meno bello. Come vi dicevo è una fiaba, una fiaba un po' gotica, è una fiaba ricca di incubi, di sogni, di speranze ed è sicuramente molto malinconica, proprio perché è un adulto che ricorda la sua infanzia, ricorda di quando era bambino, ricorda quando ha fatto amicizia con questa bambina, ricorda della sua famiglia, di questa cattivissima governante, ricorda la perdita del suo primo animale domestico, insomma è un libro appunto come vi dicevo fatto di ricordi, di ricordi chiaramente anche in parte fantastici perché comunque ci troviamo in un romanzo di Neil Gaiman ricco anche di incubi, di figure cattive, malvagie, di figuri di figure fatate, fantastiche. Il romanzo in sé mi è piaciuto molto però penso che la cosa più bella che mi ha lasciato questo romanzo sono stati appunto le sensazioni, il fatto di immedesimare io stessa con il protagonista e di mettermi a ricordare quando ero bambina e passavo lì mi è stato in montagna con tutti i miei amici e tutta una serie di avventure e disavventure che appunto ci sono capitate mentre eravamo là. Perché è un po' questo forse lo scopo di Neil Gaiman, cioè il fatto di non permetterti di dimenticare la tua infanzia e che la parte bambino di te comunque c'è ancora dentro di te l'importante è non dimenticarselo mai perché comunque siamo stati dei bambini con dei sogni, delle speranze che abbiamo vissuto anche noi i nostri incubi e è giusto portarselo sempre dietro quel bambino e non diventare mai adulti fino in fondo ma di tenerlo sempre lì con noi e ogni tanto magari di tirarlo fuori e portarcelo in giro mano nella mano. Per cui certo se siete fan di Neil Gaiman sicuramente è un libro che non potete perdervi assolutamente nell'universo, se forse non avete mai letto niente di Neil Gaiman non so se è il romanzo da cui inizierei tra tutti quelli che ha scritto però potrebbe essere comunque un buon punto di partenza tanto per farvi capire comunque come lui scrive anche se vabbè io sinceramente ve ne consiglierei degli altri se fosse appunto un inizio magico e fatato e non so incredibile mondo di questo autore che io adoro e mi leggerai anche la sua lista della spesa in realtà se proprio vogliamo dirla tutta. Sempre la proposta di Neil Gaiman, io questo libro ve l'ho già citato questa fiaba ve l'avevo anche già fatta vedere in un video però ci tengo a farvela vedere forse un po' meglio anche se sarà una cosa molto molto breve perché anche la fiaba stessa è molto breve ed è questo Ansel e Gretel riscritto da Neil Gaiman e disegnato da Lorenzo Mattotti questa è la riscrittura appunto della fiaba classica Ansel e Gretel, in realtà esiste anche la bella addormentata nel bosco però ancora non l'ho preso ma confido nel farlo molto molto presto ed ha questi disegni molto votici e molto belli, non c'è niente di nuovo nel senso che è esattamente la riscrittura della fiaba classica per cui non è che vi dovete aspettare quale chissà grande rinvenzione a parte di Neil Gaiman e forse questa cosa un po' mi è dispiaciuta perché se ci avesse messo un pochino magari lo zampino sarebbe stato interessante anche perché questa cosa delle riscrivere le fiabe è una cosa che va parecchio di moda ultimamente diciamo, sono un po' per Once Upon a Time ma prima in realtà di Once Upon a Time esisteva il fumetto Fables che nel caso vogliate mai recuperarlo anche quella è una riscrittura delle fiabe classiche e addirittura a differenza di Once Upon a Time che inserisce in realtà tantissime fiabe ma sono quasi tutte tratte dal mondo della Disney, quello che fa il fumetto Fables è proprio andare a prendere tutte le fiabe di tutte le culture diverse, adesso io non sono molto avanti con la lettura però veramente c'è di tutto e di più, tant'è che alla fine infatti di ogni fumetto le fiabe che forse meno famoso, meno conosciuto comunque ve le spiegano giusto per non farvi perdere, non sa mai che magari qualcuno di voi ha dei pupetti e volete magari insegnargli l'inglese sin da quando sono bimbini per cui potreste iniziare a leggergli qualche favoletta in inglese, questa effettivamente è scritta in un inglese abbastanza semplice, tranquillo, addirittura voglio tipo la fare leggere anche nelle scuole tipo alle medie, non sono cose del genere, cioè io ci potrei anche provare ma dubito che i bambini mi danno retta su una cosa del genere, soprattutto perché in inglese già non mi danno retta quando gli parlo dei romanzi in italiano, però boh, cioè io tipo la leggevo ad alta voce mentre la stavo leggendo, proprio perché mi dava l'idea di una di quelle fiabe che tu leggi alle altre persone, leggi appunto ai bimbi no, magari facendo un po' le voci, non lo so forse sono io che sono un po' così tarata, però fa un po' appunto non so, lettura da libreria con tutti i bambini attorno seduti mentre tu ti metti lì e gli leggi questa bellissima fiaba e ha comunque un volume che io vi consiglio di avere perché a parte che è bellissimo, è illustrato benissimo ma poi è sempre Neil Gaiman e poi è una fiaba, non lo so, io sono una fan delle fiabe, dei racconti per cui al di là del fatto che appunto Neil Gaiman comunque a lui piace scrivere questo genere di storia, cioè un po' fiabesca, non lo so, poi c'è sempre a dire che io ho comunque questo problema che mi porto dietro ad aver visto fin troppi film tipo stile fabola che erano tutti quelli che facevano negli anni 80 per cui quando esce qualcosa che ci assomiglia soltanto vagamente mi ci devo fionnare sopra. Il prossimo romanzo di cui vi voglio parlare, che anche questo l'ho letto tantissimissimo tempo fa, è questo, I parassiti di Daphne e Numeria, a differenza di altri romanzi di Daphne e Numeria che voi non riuscite a mettere giù finché non siete arrivati all'ultima pagina perché vi prendono tantissimo per, ammettiamolo, un pochino magari lasciarvi un po' così sul finale perché Daphne e Numeria per me non è bravissima a scrivere i finali dei romanzi, è proprio il finale finale, nel senso che vi lascia lì così fino all'ultima due tre pagine e poi vi risolve tutta la manfrina appunto in due tre pagine e c'è questa cosa che un po' mi ruga tutte le volte che finisco un romanzo di Daphne e Numeria e questo non è uno di quei romanzi, no? Perché lei, se voi l'avete mai letta, sapete che scrive un genere che è un po' tra il thriller, il gotico, a volte anche leggermente sfocia nell'horror, nel noir, comunque ha questi tratti un pochino tra virgolette gotici, no? A questo romanzo in particolare non c'entra quasi niente, io adesso non ho letto tutti i romanzi di Daphne e Numeria però ne ho letti un po', ecco, questo è proprio particolare, già particolare della Mole perché è gigantesco rispetto agli altri che ho letto, però non è stato questo spaventarmi, anzi perché comunque a me piace molto come scrive Daphne de Morier, è stato proprio il fatto che arrivata a metà mi sono detta ma siamo ancora qui? Perché quasi tutto il romanzo è ambientato nella stessa stanza, della stessa casa e tutto nella stessa giornata fondamentalmente, perché ci sono questi tre fratelli che dopo un litigio di una delle sorelle col marito stanno in questa stanza e il marito appunto di una di queste li ha additati come parassiti, dicendo voi non avete mai fatto un cazzo nella vostra vita, siete soltanto dei parassiti per questo incavolato nero e questi a un certo punto si ritrovano appunto, a parte piccati nell'onore e fanno una specie di bilancio delle loro resistenze, ovviamente tutto questo bilancio è fatto attraverso dei flashback per cui noi li riconosciamo da bambini, scopriamo che effettivamente non è che sono neanche esattamente fratelli questi tre per via tutta una serie di matrimonio della madre di uno col padre dell'altro, per cui in realtà di figlia della madre del padre ce n'è soltanto una tra i tre perché gli altri vengono da altri matrimoni, veniamo a conoscenza del rapporto un po' malato tra questi due fratelli, forse quasi incestuoso però non si capisce mai fino alla fine com'è, è tutto insomma più un'analisi psicologica dei vari caratteri perché di storia in sé non succede praticamente nulla. È un testo che ha quasi del teatrale se vogliamo perché volendo potrebbe essere benissimo ambientato in un teatro perché appunto come vi dicevo una sola stanza e una giornata è basta con questi tre che si parlano e raccontano le loro vite, ok in un teatro non potreste magari vedere i flashback o comunque non sarebbe bellissimo da vedere tutti i flashback perché chiaramente ci sarebbe bisogno di 8000 attori perché questi vengono visti attraverso varietà e poi chiaramente non ci sono soltanto loro come personaggi ma ogni tanto compaiono anche i genitori, l'amante di quello, l'amante di quell'altra per cui chiaramente diventa un po' più sostanzioso come spettacolo però fondamentalmente di base è quello, è un lunghissimo spettacolo teatrale in cui inizia con questa cosa, c'è tutta questa parte centrale appunto di sviluppo del racconto, del come effettivamente, per dimostrarvi forse anzi neanche del come, per dimostrarvi se effettivamente questi siano o meno dei parassiti come appunto ci ha detto Charles e poi sta un po' voi in realtà che leggete a trarre le conclusioni, a cercare di capire meglio questi personaggi perché chiaramente è il bello che magari all'inizio vi sembrano in un certo modo per cui vi dite ah questa qua è la classica ricca viziata, questa qua è quella tutta un po' servizievole che sta lì e si fa trattare male da tutti e fa la schiavetta a tutti, per cui già vi da sui nerd, quell'altro sì è il solito artista compiaciuto che però ha avuto una vita al cavolo che in realtà non è vero perché è pieno di soldi però se la deve tirare come se fosse l'artista maledetto, però non è poi esattamente così, poi mano a mano chiaramente nella storia andate avanti e cercate di capire qualcosa di più dei personaggi, chiaramente dopo la fine vi rimane questo rigurgito nei confronti loro e pensate effettivamente siete tre ricchi e viziati, siete tutti e tre uguali, siete veramente insopportabili e quell'altro Charles ha fatto bene a chiamarmi i parassiti perché effettivamente è quello che siete, questo sta un po' a voi decidere, io non mi permetterai mai di mettere becco, però eventualmente se l'avete letto poi mi farete chiaramente sapere voi cosa ne pensate di questo romanzo, non è tra i miei preferiti Daphne, non morì è questo sì, cioè è molto bello, è scritto molto bene perché comunque lei scrive benissimo però proprio questa struttura, questo tipo di romanzo non è che, cioè questa struttura non aiuta questo tipo di romanzo, ecco, cioè il fatto che comunque non ci sia una storia e non ci siano dei flashback che mandano avanti la storia o servono per mandare avanti la storia, non è che vi spingio ad andare avanti, è per questo forse che ci ho messo molto a leggerlo e ci ho infilato altri libri in mezzo, proprio perché in realtà non c'è, cioè non c'è una spinta, non c'è qualcosa che vi dice adesso con questo flashback si scoprirà che, no, cioè sono un po' uno in funzione dell'altro, però non in funzione della storia stessa, per cui sì, ci servono a raccontarvi i personaggi, però esattamente come è iniziato finisce il libro, è sempre lì, capito, è questo un po' il suo limite, cioè il suo bello da un certo punto di vista perché è molto particolare ma anche il suo limite dall'altro, perciò se cercate un romanzo di quelli di Daphne non morì e che appunto vi spingono ad andare avanti pagina dopo pagina, come poteva essere il capo respiatorio o come poteva essere mia cugina Rachele per dire, non è questo, questa è proprio una roba completamente diversa, per cui piuttosto datevi i racconti di Daphne non morì e che sicuramente sono più al cardiopalma e vi prendono sicuramente di più. Un altro romanzo che ho letto sempre tantissimo tempo fa, penso ancora a dicembre questo, è La luce tra gli oceani, questo romanzo mi sono messa dietro a leggerlo perché mia mamma me l'ha montato talmente tanto che alla fine l'ho letto soltanto per farla tacere, fondamentalmente mi sono detta senti leccilo, così finalmente no te lo levi, anche perché io l'avevo sentito nominare tantissimo ma non riuscivo a collegare a che cosa l'avevo sentito nominare, perché io l'ho iniziato a leggere prima di tutto per far tacere lei, poi ho detto boh, arrivata a metà mi sono detta boh c'è qualcosa di familiare nel titolo e dopo vi dirò cos'è che ho scoperto effettivamente su questo romanzo, non è che mi sia particolarmente dispiaciuto no, però non ne ho un grandissimo ricordo, la trama fa abbastanza fatica ad ingranare anche se inizia che c'è già un evento grande, dopodiché parte tutto appunto un periodo anche qui in cui vi si racconta come siamo arrivati a questo punto, per cui già questa cosa molto cinematografica e dopodiché riprende appunto la storia, è un romanzo per carità bello, sicuramente appassionante, è anche molto triste, ma molto molto triste, più o meno mi ha dato gli stessi problemi che mi aveva dato venuto al mondo, che ho trovato sicuramente un bel libro, anche se io non sono una grandissima amante di Margheretta Mazzantini, mi era piaciuto non ti muovere ma c'erano alcune cose che non mi avevano convinto al 100% e la stessa cosa è successa con venuto al mondo, il mio limite con venuto al mondo che è lo stesso che è stato con la luce tra gli oceani è il fatto che si parla di maternità, di maternità molto desiderata, cioè di queste donne che vogliono a tutti i costi avere un figlio, non che io sia quella che dice io non ne voglio, però io in questo momento nella mia vita figli non ne vogliono, cioè non sento il desiderio capito di avere un bambino, per cui non capisco questo desiderio quasi, non lo so, animale del voler avere un bambino e questo desiderio che ti porta a fare anche delle azioni se vogliamo non totalmente giuste, non solo illegali, che quello forse a un certo punto sarebbe anche il meno, ma proprio azioni anche egoistiche, grazie Sherlock che hai deciso così di saltare sulla scrivania mentre io sto cercando di parlare, facciamo, stai qua in braccio, scendi, magari scendi eh, non sali, scendi Sherlock che era dall'altra parte scendere, stavo dicendo appunto, essendo storia di maternità, forse io non riesco completamente a immedesimarmi col personaggio, o forse non so, sono le autrici che non sono abbastanza brave a farti immedesimare col personaggio, anche perché non è che tu effettivamente ti puoi sempre immedesimare col personaggio, perché voglio dire, se non so, leggi il romanzo di uno che va in guerra, non è che puoi dire effettivamente in guerra non ci sono stata, non so com'è che sia, però boh, forse in questi romanzi di donne che desiderano la maternità io faccio proprio fatica, non riescono, anche perché non so che cosa voglia dire arrivare fino a questo punto, cioè distruggere la felicità di un'altra donna soltanto per la propria, perché si desidera così tanto un figlio e negare la maternità ad una, perché lo vuoi tu, il bambino, per cui dici me lo tengo io, per me è un'azione talmente, non lo so, orribile, cioè io mi metto nei panni di quest'altra donna che mi hanno portato via il figlio e mi dico, cioè io non trovo giustificazione in te, capito, in tu che gliel'hai portato via, senza fare apposta, per carità, no, ho aperto una serie di vicissitudini che chiaramente io adesso non vi sto a dire, perché se leggete il romanzo chiaramente poi ve lo scoprite da soli, è che l'unica voce della ragione, che poi è la voce con cui io mi sono immedesimata, è quella del protagonista maschile che è questo Tom, mentre proprio nella protagonista femminile io non lo so, non ce l'ho fatta, è stato, non è che ho sentito antipatia a pelle, però, cioè io posso capire il desiderio di maternità, però non posso capire che ti porti a compiere azioni di questo genere, proprio perché la maternità comunque è un atto d'amore, per cui il fatto di comportarti invece in maniera così egoistica, non lo so, mi dava molto fastidio mentre lo leggevo, tant'è che effettivamente quando poi questa specie di segreto viene svelato, io ho tratto un sospiro di sollievo e sì, cioè è chiaro che ci resti male per tutta una serie di vicende che accadono dopo, sto cercando di dirvi le cose senza dirvi le cose, non è molto semplice, vi dirò. Non ho capito se in realtà l'autrice voleva creare questa ambiguità, cioè tu da che parte vuoi stare, da quella della madre che questa bambina l'ha trovata, che ha deciso di allevarla come propria, o di quella povera donna che è la madre vera, che in realtà la bambina non è che l'ha abbandonata, l'ha persa o quant'altro, semplicemente è successa una cosa per cui questa bambina poi è scomparsa, ma lei l'ha sempre voluta questa bimba. non lo so, forse lei voleva creare questo duplice sentimento nella persona che leggeva per cui una si diceva, no cacchio però lei è la madre, però questa qua la vuole come una figlia, io in realtà sono stata abbastanza categorica sin da subito, mi sono sentita subito da dire no, non è che questa madre l'ha abbandonata la figlia per cui merita di non vederla mai più, questa povera donna ci sta soffrendo perché comunque sua figlia l'è stata strappata vita, io ho trovato molto bello il personaggio di lui, di Tom, perché lui effettivamente è un uomo dilaniato, perché da una parte ama tantissimo questa moglie e cioè le comprerebbe la luna se potesse e l'unica cosa in realtà che la moglie vuole è un figlio, però d'altra parte è una persona talmente sensibile, talmente buona che dice cacchio però cioè ok, per rendere felice mia moglie io sto facendo, capito, star male da morire un'altra donna e non perché ho fatto del male a quell'altra donna, perché io l'ho portato via una bambina, cioè è sua figlia, sangue del suo sangue, che appunto come dicevo non è che questa l'ha abbandonata in mezzo al fiume per cui giustamente voi potete dire eh cacchio però adesso sta bambina sta in mani migliori, cioè è questa la cosa, io ho trovato infatti il personaggio più bello sia appunto quello maschile, paradossalmente lo so che non dovrei però, cioè o comunque boh essendo donna forse avrei dovuto più immedesimarmi in una delle due donne, però non so, forse lui nonostante sia uomo io l'ho trovato molto più sensibile e non so, empatico, capace di capire i sentimenti molto più delle altre, è infatti quello che per me si prende più batoste di tutti, povero uomo, forse è un po' zerbino talvolta, però comunque boh l'ho trovato un personaggio molto bello, quello che vi dicevo che io l'ho capito dov'è che l'ho sentito nominare, grazie Sherlock che stai cercando di attraire la mia attenzione a tutti i grossi, ma io sto cercando di fare un video, che ci faranno un film, un film con Alicia Vikander che farà appunto la moglie di Tom e Isabel, a fare Tom c'è Michael Fassbender, il Fassi, che è un personaggio bellissimo come dicevo Tom per cui ci sta da dio Fassbender, e a fare invece Ruth, se non mi ricordo male si chiamava, e ci sarà Rachel Weisz, mia madre se n'è innamorata in realtà di questo libro, nel senso che proprio piangeva calde lacrime alla fine del romanzo, perché come vi dicevo, data la trama non è che vi potete aspettare esattamente il lieto fine dei lieto fini, perciò io ve lo dico preparatevi psicologicamente perché non è questione di finire bene e finire male, è una tragedia dietro l'altra questo romanzo. Sono riuscita a recuperare ma solo tramite pdf sulla pelle di Gillian Flynn, Gillian Flynn è l'autrice che ha scritto anche L'amore bugiardo, di cui anche qui sono riuscita a trovare un suo romanzo, che è Nei luoghi oscuri, che però non ho ancora letto, sulla pelle mi dà l'idea che sia un romanzo precedente rispetto all'amore bugiardo, ma è soltanto una mia impressione, perché in realtà io non sono andata a controllare questa cosa, è una sensazione che ho avuto leggendolo, semplicemente perché l'ho trovato molto meno approfondito psicologicamente parlando dei personaggi, e molto meno di impatto rispetto a quello che è L'amore bugiardo, non soltanto per il colpo di scena in sé che racchiude L'amore bugiardo, ma proprio per tutta la costruzione comunque della trama e del romanzo. Credo che sulla pelle sia a parte più scontato per quanto riguarda la risoluzione del trailer in sé, ma anche più freddo per quanto riguarda appunto i personaggi. Quello che riusciva a fare L'amore bugiardo era di costruirti questi due protagonisti e che ti si attaccavano proprio addosso, nel bene e nel male, perché comunque sin da subito tu amavi tantissimo magari uno, dopo odiavi l'altro, dopo però dicevi guarda questo però non è forse così stronzo come sembra, però anche lei, però in realtà sono strozzi tutte e due, però dai cerca di capirli, c'era tutta questa costruzione interna per cui tu non sapevi mai se amare o odiare appunto i due personaggi protagonisti. Ecco invece sulla pelle non funziona esattamente così, nel senso che è un po' più un thriller classico con questa giornalista che si ritrova a tornare nei luoghi di infanzia dove ha vissuto tutta una serie anche di tragedie personali, tragedie personali che è anche iscritto sulla propria pelle, però non vi dico in che misura perché è una cosa che si scopre tra l'altro un po' più avanti nel romanzo, magari vi lascio un attimo così ed è forse la parte più interessante da quel punto di vista della scrittura, proprio perché vi fa risaltare proprio alcune parole capirete per quale motivo lo fa e lì deve indagare diciamo, fare domande comunque indagare in maniera un po' più approfondita giornalistica per scrivere un articolo sulla scomparsa di alcune bambine. Rimarrà in coinvolta tra l'altro anche nel ritrovamento di uno di questi cadaveri per cui da lì in poi girerà la voce chiaramente c'è un serial killer e il fatto che lei comunque questa cittadina la conosce, la cittadina conosce lei e per cui si metterà lì di Buzzo Moni insieme a un investigatore che non è del posto a cercare di indagare su questi omicidi. La trova come vi diceva interessante, sicuramente è un romanzo che vi prende, perché comunque Gillian Flynn sa come catturarvi, come cercare di farvi ragionare per farvi capire chi eventualmente può essere, ma allo stesso tempo vi confonde. Anche perché se non siete degli ottimi detective effettivamente fino all'ultima missimissima pagina non è che si svela il mistero, però anche sta lì a voi, nel senso se avete un pochino di esperienza e non è che siete proprio dei novelli Sherlock Holmes, però se comunque avete letto tipo, non so, tutta la collezione dei romanzi di Patricia Cornwell o siete fan di Elizabeth George o vi leggete, che ne so, Megre o vi leggete Agatha Christie o quant'altro, so di fatto che sì, effettivamente non è che ci vuole questo grande investigatore per capire quale sia il mistero sotto, perché volendo potete arrivarci anche a tre quarti del romanzo. Per cui sì, tolto questo, cioè tolto in realtà l'omicidio e la scoperta del serial killer, non è che vi rimane tantissimo, invece i romanzi veramente belli, gialli e thriller, sono quelli che anche tolto proprio il mistero, comunque qualcosa vi rimane, vuoi l'indagine psicologica dei non i protagonisti, vuoi alcune vicende personali che saltano fuori, cioè voi pensate, non so, a un thriller come Il silenzio dell'innocente, cioè io trovo che la bellezza di quel romanzo non sia soltanto lo scoprire che cosa è successo a queste ragazze, che cosa Buffalo Bill faceva di queste ragazze, ma proprio tutta la fine indagine psicologica non solo di Buffalo Bill, ma proprio anche della protagonista Clary Starling, di Hannibal Lecter, vi dicendo, cioè era proprio bello per quel motivo lì. Elisabeth George, che di pari passo con la storia del giallo vi racconta tutte le vicende personali dei suoi protagonisti. Sulla pelle di Gillian Flynn è un romanzo molto fine a se stesso, lo leggete, scoprite che è l'assassino, boom, cioè lo chiudete e poi ve lo mettete lì nell'angolo, è un thriller come possono essere tanti altri thriller, appunto che alla fine li avete letti, prendete atto, carino, per carità, è finito così, ho scoperto che è l'assassino, ah ok, boom, cioè può essere anche che magari da qui a, che ne so, un anno mi si è anche già dimenticata che era effettivamente l'assassino, perché non è niente di così memorabile questo romanzo? Perché sì, sono belli, perché tal, sono scritti bene, sono interessanti, hanno dei bei personaggi, ti prendono anche alla fine, perché non è che sono romanzi che tu dici ho fatto una fatica allucinata a venircelo in fuori, no, però alla fine è questo, cioè non vi lasciano nulla, dite ah ok, bello, per l'amor di Dio e via dicendo, che non sembra scritto la Gillian Flynn, perché comunque ha qualcosa in comune, cioè la scrittura si vede che è la sua dell'amore bugiardo, però l'amore bugiardo, cioè ha proprio questi personaggi che erano costruiti benissimo, il rapporto di odio e amore con loro è che te lo portavi avanti per tutte, non so, 4 o 4-500 pagine di romanzo, cioè, e tu andavi avanti a leggere, non tanto poi per scoprire come sarebbe andata a finire la vicenda, proprio perché tu dovevi cercare di scavare ancora di più nel cervello di questi due, per cui se cercate un thriller onesto, senza troppa fatica e via dicendo, potete leggerlo sulla pelle di Gillian Flynn, però sì, non aspettatevi mai un thriller che abbia la stessa potenza di appunto l'amore bugiardo, adesso la smetto di fare il paragone con quel romanzo, quando avrò letto l'altro poi farò il paragone tra quell'altro e tutti gli altri due. L'ultimo romanzo di cui vi voglio parlare è appunto Suite francese di Renne Mirowski, in realtà io non amo molto fare questo, cioè mettermi a leggere i romanzi quando è il periodo in cui van di moda, tipo le ristampano perché sta uscendo il film, per cui alle tutti a leggere il romanzo perché adesso è uscito il film, anzi mi dà abbastanza fastidio questa cosa. Però ammetto che ero talmente interessata al film che un pochino mi scocciava andarlo a vedere senza aver letto prima il romanzo, perciò io ho iniziato a dire leggo il romanzo circa un mese prima, solo che poi per un motivo o per quell'altro non mi sono mai decisa a leggerlo, anche perché io non ce l'avevo fisicamente il libro, ce l'avevo soltanto sull'e-reader. Sono ricapitata sul trailer per l'ennesima volta e sono tipo capitata su altri due trailer sempre con lo stesso attore e da qui mi è dato anche un interesse improvviso diciamo per il romanzo, l'attore, tutta una serie di cose messe insieme e a questo punto mi sono detta senti leggi questo site francese così almeno il film te lo vai a vedere e almeno hai anche letto il libro, perché a me leggere i libri dopo aver visto il film è una cosa che proprio non mi piace assolutamente. Per cui sono andata in libreria e finalmente l'ho trovato, questa è l'edizione della Newton Compton e c'era o questa o quella orribile della Newton Compton con gli omini stilizzati mi faceva schifo, per cui tra le due ho scelto questa, anche perché io non è che sono una che odia particolarmente l'edizione con su le locandine dei film, anche per le locandine è la carina parte sta scritta che c'è qua sotto, però per il resto non è male. Si è mai approcciato a Irene Mirosky o magari si vuole approcciare questo libro perché comunque l'ha sentito nominare perché tutti dicono che è il capolavoro di Irene Mirosky, anche se qui ci sarebbe da prima parentesi perché è un po' dura dire è il capolavoro di Irene Mirosky considerato che il suite francese non è un romanzo finito, appunto troviamo questa cosa, si perché il suite francese non è un romanzo finito, cosa vuol dire che non è un romanzo finito? Che in realtà deve essere un romanzo in cinque parti, noi di questo romanzo in cinque parti abbiamo soltanto due parti, proprio perché Irene Mirosky è morta a 32 anni in un campo di concentramento che era Auschwitz e non ha mai fatto in tempo a finire questo romanzo. Oltretutto è un romanzo che non ha avuto una revisione perché è stato ritrovato dopo non so quanti anni dalla figlia perché la Irene Mirosky l'aveva nascosto in una valigia o una cosa del genere, sta di fatto che si percepisce anche questa cosa che non è stato revisionato. Oddio che scrivere di prima botta certe cose effettivamente c'è da farle soltanto i complimenti, però chiaramente ci sono alcuni pezzi in cui cambiano i nomi per dire, proprio perché non ha mai fatto in tempo a rileggerlo. Come mi dicevo è un romanzo che contiene soltanto due delle cinque parti che in teoria la Irene Mirosky aveva ipotizzato ed è una cosa che si capisce forse soltanto arrivata alla fine del romanzo, semplicemente perché la prima parte è dedicata all'esodo di tutta questa serie di personaggi che scappano da Parigi quando iniziano ad arrivare i tedeschi, per cui questi scappano da Parigi e vi viene raccontato in tanti capitoli le vicende di tutti questi vari personaggi. Abbiamo personaggi della borghesia, personaggi legati del popolo, abbiamo i letterati, possono anche sembrarvi un po' macchiettistici se vogliamo, forse un po' troppo semplificati, anche se in realtà vanno male che prosegue la storia e vi rendete conto sempre di più che non è che sono così, è proprio la Irene Mirosky che probabilmente voleva rappresentare determinate classi sociali e non le manda neanche tanto a dire oltretutto a queste classi sociali che poi sarebbero soprattutto quelle più ambienti. Le dipinge come persone ipocrite, falsamente buone, persone che vogliono farsi vedere, essere buone, generose così ma appena gli si tocca qualcosa chiaramente diventano più belvi a momenti di quei poveracci che effettivamente non hanno niente. Forse per questo infatti che mentre andavo avanti a leggere il romanzo e più disgrazie le succedevano più ci godevo sotto sotto in realtà perché lo fate anche voi. Addirittura ci sono dei fatti che in teoria dovrebbero essere tragici ma al lettore per me strappano più un sorriso in realtà che la lacrima. Nella prima parte a me sono rimasti soprattutto in Percy questi due signori Michaud che sono questa coppia che ha il figlio che è in guerra e che deve anche loro vivere tutta una serie di disavventure e purtroppo loro non hanno tutte queste facilitazioni che invece hanno le famiglie più ricche. Però nonostante questo sono quelli che vivono forse più di speranza, sono più ottimisti, soprattutto il marito che fa questo discorso bellissimo sul fatto che lui è ottimista, lui crede che prima o poi tutto questo finirà proprio perché dice le catastrofi non durano per sempre e diciamo che l'importante durante la catastrofe è rimanere in piedi, è resistere perché tanto prima o poi finiranno. Se pensiamo che è un discorso che Nemirovsky fa fare ad uno dei suoi personaggi proprio in un periodo in cui il disastro, la catastrofe, la catastrofe effettivamente era incombente, cioè è meraviglioso, io non so quanto effettivamente la Nemirovsky magari ci credesse o meno in queste parole che ha fatto dire ad uno dei personaggi, però io penso che ci credesse perché comunque è il personaggio a cui ti dà l'idea che voglia più bene tra tutti i personaggi presenti appunto nella prima parte del romanzo. La seconda parte invece è dedicata a questo paesino che è BC dove essere protagonista non è più tutta quella serie di personaggi che abbiamo conosciuto nella prima parte ma degli altri personaggi a parte qualcuno che è ancora presente che però era comprimario, cioè era personaggio secondario nella prima parte che qua diventa invece pochino più protagonista. La vera e propria protagonista è Lucille Angelier e la suocera, sopportabile, e questo tenente tedesco che è Bruno Von Fall. La seconda parte appunto mi dicevo viene raccontata la vita di questo paesino che viene sconvolta dal fatto che arrivi appunto all'esercito tedesco che prende praticamente possesso della cittadina, alcuni ufficiali tedeschi, soldati tedeschi vadano effettivamente a vivere nelle case dei appunto questi cittadini. La cosa interessante che fa la Nemirovsky è di dare un'umanità comunque a questi personaggi, cioè noi tendiamo a dire al nemico è cattivo, punto. Quando in realtà loro, i tedeschi, avranno pensato lo stesso dei francesi dicendo guarda sono i nemici, punto. Qui sono tutti cattivi per loro, invece no, cioè a me la cosa che ascomvolta è dire caspita questa era francese, in teoria avrebbe dovuto odiarle, invece va a raccontare di certi soldati tedeschi e li umanizzano in una maniera che una come lei invece avrebbe dovuto odiarle a priori per via di quello che comunque i tedeschi stavano facendo. Comunque lei era ebrea, per cui non so, forse l'avrebbe dovuto sentire di più questo odio verso i tedeschi, non lo so. Sta di fatto che ho trovato bellissimo il fatto di volerci raccontare soprattutto un soldato in particolare appunto che è il protagonista maschile che è Bruno Monfalch, come una persona che in realtà nella guerra c'è capitata, per cui non è che è cattivo, però gli è toccato fare il soldato, poi era scoppiata e lui in guerra c'è dovuto andare, però in realtà lui era un musicista, non era un soldato e magari non è neanche convinto di quello che sta facendo, però purtroppo è il suo ruolo e gli tocca farlo. Una cosa bellissima appunto come dicevo, cioè il fatto di lei che vuole umanizzare così tanto un personaggio di una razza che avrebbe dovuto tecnicamente odiare la follia. Non pensate di trovarci chissà quale smielenza storia d'amore nella seconda parte perché non c'è una smielenza storia d'amore. È sempre una narrazione di personaggi, di carattere, cioè il fatto della persona che viene messa di fronte a determinate situazioni fuori dall'ordinario e di come questa reagisce. Addirittura per me c'è proprio il risveglio di questa protagonista che è Lucille che ho trovato meravigliosa, no? Che voi trovate appunto all'inizio della seconda parte del romanzo come una ragazza molto, non so, sottomessa che sta zitta, non risponde, che però ha un mare di pensieri. Ed è una cosa bellissima questa della Nemiroski che fa girare i suoi personaggi in una maniera però li fa anche pensare e voi dite ok questo fa una cosa per realtà ne sta pensando una completamente diversa. Per cui questa differenza tra azione e pensiero è esattamente quello che succede in Lucille, anche se in realtà nella prima parte del romanzo Lucille non è che pensa di ribellarsi, no? È una molto anche sottomessa nei stessi pensieri, finché poi a un certo punto, non so, l'arrivo di questo tedesco, la presa di coscienza di sé, il fatto di volersi ribellare lo fa in toto, cioè non soltanto nei pensieri ma proprio anche nelle azioni. Dico che si capisce che è un romanzo incompiuto semplicemente perché il romanzo sì, in un certo senso finisce, però chiaramente è abbastanza logico che i personaggi della prima parte probabilmente poi sarebbero ritornati per incontrarsi con quella della seconda, magari nella terza, quarta e quinta parte del romanzo. Effettivamente ci sono degli appunti dell'Anne Mirosky che vi raccontano a grandi linee come doveva essere la trama però della terza e una parte della quarta parte. Come effettivamente sarebbe poi finito il romanzo non si sa. C'è anche da dire che essendo un romanzo in revisione voi potete anche leggere quali erano le intenzioni dell'Anne Mirosky, però può sempre essere che lei alla fine nebo le cambiasse. Che effettivamente se fosse stato un romanzo completo di cinque parti sì, probabilmente sarebbe stato un capolavoro. Mi ha dato molto quell'idea perché è un romanzo molto corale, bello proprio per questo, perché vi racconta una vicenda storica così importante vista da tanti personaggi. Sarebbe stato bello leggere non soltanto l'inizio della guerra tra virgolette vera e propria, nel senso che l'arrivo dei tedeschi in una città come Parigi e il conseguente esodo, la parte centrale e poi magari anche la fine della guerra. E sarebbe stato stupendo. Oltretutto raccontato da una persona che effettivamente l'ha vissuta questa guerra. Per cui noi rimaniamo sempre col dubbio di quello che questo romanzo sarebbe potuto diventare. Vi consiglio comunque di leggerlo perché tralacendo il fatto appunto che non finisce. È un romanzo che merita ed è scritto benissimo ed è bellissimo. E il fatto che comunque vi trasmetta dei sentimenti così positivi e di speranza, nonostante sia stato scritto in un periodo che di speranza sicuramente ce n'era molto poca. E come vi ho detto prima e vi ripeto adesso, da una persona che proprio per il suo essere ebrea forse l'ha vissuto di più queste brutture della guerra, non lo so, mi fa strano che una come lei che effettivamente doveva temere più di tutti gli altri, credo, sia riuscita a scrivere delle parole così belle da dire che bisogna rimanere in piedi nonostante tutto e bisogna guardare avanti perché è l'unica cosa da fare in un momento così orribile. Forse vi trasmette questa cosa del dire, cacchio se ce l'ha fatta lei ce la posso fare anch'io. Voi fatemi sapere se avete letto alcuni di questi libri, se vi sono piaciuti, se non vi sono piaciuti, cosa ne pensate, cosa non ne pensate, se per caso avete appunto letto Suite Francese, se vi è piaciuto, se ci sono altri libri che volete consigliarmi io sono qua e vi ascolto. E noi ci vediamo al prossimo video, vi auguro buone letture, voglio salutare a proposito di Suite Franciuse, volevo salutare la Jo perché lei mi ha tenuto una compagnia mentre leggevo il romanzo, volevo salutare anche la Chris perché anche lei in realtà mi ha tenuto tantissima compagnia durante il romanzo. Vi auguro buone letture e buon fine settimana, ciao!